Cefarmento è una grande festa che è cominciata in un posto piccolo e speriamo che diventi sempre più grande nella città che a tutti noi piace più di tutte le altre. Cefarmento è aggregazione, festa e artigianato di alta qualità. Cefarmento è l'occasione giusta per la città di Saluzzo di entrare veramente nella lista delle manifestazioni importanti. Cefarmento è promozione del territorio, Cefarmento è un modo per far uscire Saluzzo dai propri confini e per farsi conoscere in tutta la regione e in tutta Italia. Saluzzo dai propripi